Ciao, sono Eugenio Finardi e sono qui per dare il mio contributo alla campagna di Dismap per l'accessibilità ovunque delle persone con disabilità. Sono padre di una ragazza disabile, non fisicamente, ma con la sindrome di Down e quindi sono molto vicino a tutti coloro e ho un grande rispetto per tutti coloro che riescono a vivere vite degne e importanti nonostante le difficoltà. Non creiamogliene di più.